Così anche l'Europa ha il suo primo decesso da coronavirus, sebbene si tratti di un turista cinese o tuagenario. Era stato ricoverato con i sintomi di una polmonite poco dopo il suo arrivo, a fine gennaio, in rianimazione presso l'ospedale Bichat di Parigi. Fino ad oggi erano soltanto tre i casi decessi da coronavirus fuori dalla Cina, esattamente nelle Filippine, a Hong Kong e in Giappone. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, rimanendo in condizioni critiche e in terapia intensiva per diversi giorni. Anche sua figlia, una cinquantenne, è affetta da Covid-19 ed è stata curata all'ospedale di Bichat. Il suo stato di salute non dè sta preoccupazione, dovrebbe essere presto dimessa, spiega la ministra francese alla Sanità. Mentre in Cina si viaggia verso i 70.000 casi di contagio e si contano 1.500 morti, le preoccupazioni occidentali si accendono un po' a tutti i livelli. Anche alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove ha parlato il direttore esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento in Cina sono in corso 82 studi diversi per avere farmaci e vaccini, tutto dalla medicina tradizionale fino ai farmaci anti-HIV. Viene sperimentato in collaborazione con scienziati esterni. Il progresso nelle conoscenze di base è stato spettacolare, ma ci vorranno dalle due alle tre settimane per avere le conferme di queste prove. L'epidemia Covid-19 è ucciso in Cina, soprattutto nella provincia di Hubei, dove ci sono fra gli 11.000 e i 12.000 ammalati in gravi condizioni. In questa sola provincia il totale dei casi di contagio sale a oltre 54.000. Le interconnessioni globali costringono Oriente e Occidente a collaborare in modo efficace.